Gianluca Lobefolo, QW Capital, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, grazie a voi. Gianluca, naturalmente è stata una settimana molto volatile per i listini americani e giustamente volevamo capire che cosa è che sta spingendo il rialzo di oggi, stiamo notando anche un rialzo dei ciclici insieme ad un rialzo dei rendimenti dei treasuries, quindi che cosa e che causa questo effetto contemporaneo? È una correlazione che continua a essere confermata, abbiamo parlato anche l'altra volta, c'è questa correlazione spuria tra Nasdaq e tassi di interesse, questo perché è dovuto a un piccolo retracement rispetto alla grande euforia che c'era stata sul settore tecnologico che c'è ancora, ma si è leggermente ridotta, a vantaggio in questo caso dei ciclici, tutto ciò quello che è associato alla riapertura. Questa è stata una settimana volatile anche perché c'è stata la testimonianza congiunta del Ministro del Tesoro americano, Janet Yellen e del Presidente della Fed, Powell, presso la Commissione del Senato, che ha confermato da una parte il tono positivo sia della Banca Centrale che del Ministro del Tesoro in virtù di un miglioramento macroeconomico, però ha anche lasciato intravedere la volontà da parte sia del Ministro del Tesoro che della Banca Centrale di essere un poco più permissivi nei confronti ai tassi di interesse, cioè chi si aspettava che soprattutto la Banca Centrale avrebbe mostrato un attimo di preoccupazione nell'eventualità di un aumento dei tassi, invece il messaggio è stato è tollerabile, è un indicatore di una ripresa economica, quindi lasceremo stare. Sapendo noi quali sono le implicazioni sul mercato, qualunque possibile previsione sugli andamenti del bilancio della Banca Centrale, è chiaro che questo genera più preoccupazioni di quanto dovrebbe. Io credo che sia la Yellen che Powell stanno giustamente tentando di normalizzare questa relazione, di allentarla se possibile, perché non è, come abbiamo più volte detto, non è naturale. Ecco, tra poco andremo anche a parlare di Yellen e Powell, ma prima volevo sapere appunto come sei posizionato sui titoli ciclici e soprattutto per tornare verso i value stocks, i cosiddetti value stocks, bisogna vedere rendimenti più bassi o non è necessario? No, non è necessario, sicuramente è collegato alla riapertura. Quindi solo per capirci, possono coesistere? Sì, sì, assolutamente, assolutamente possono coesistere. Poi è ovvio che tutto nel mercato è prepositioning e timing, quindi una cosa è andare a vedere quello che deve essere eventualmente la visione di lungo periodo, non qualcosa, il timing sulla settimana o sul mese. Però sicuramente il tema al momento, se non abbiamo delle sorprese negative economiche, è sicuramente che c'è più valore dei ciclici nei confronti del tecnologico e di quello che ha spinto il mercato negli ultimi 12 mesi. Chiaramente ci sono una serie di variabili, non da ultimo quello che hai appena detto tu sui problemi che stanno avendo sul canale di Suez, non lo sarà sicuramente, ma si parla sempre in economia che un battito di farfalla nel Far East può provocare una turbolenza nei mercati occidentali e questo potrebbe essere più di un semplice movimento di una farfalla. Io mi auguro e credo che verrà risolto nel breve, però stiamo parlando di un, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, di una catena così delicata e così dipendente per la produzione industriale occidentale dell'approvvigionamento asiatico e quindi chiaramente qualunque problema in un punto nevalgico come quello del canale di Suez, dove passa circa quasi il 20% dell'esportazione asiatica nel fronte dell'Occidente, un blocco anche temporaneo può avere delle percussioni importanti. Allora, intanto volevo focalizzarmi anche perché ci arrivano più domande, poi naturalmente per quanto concerne i titoli cinesi quotati anche negli Stati Uniti e tutto ciò che è accaduto nelle ultime settimane, ovviamente grazie alle paure e le possibilità di delisting, mi riferisco ad Alibaba, Baidu, JD.com e NetSea che hanno perso insieme circa 468 miliardi di market cap, insieme naturalmente giusto per essere chiari, sempre in dollari Hong Kong, anche qua mi sembra giusto specificare la valuta. Quindi il punto è come bisogna comportarsi con questi titoli tech che sono sempre stati diciamo dei grandi vincitori, hanno perso tantissimo terreno nelle ultime settimane a causa appunto delle paure e soprattutto delle minacce di un possibile delisting dai mercati americani. Allora, in primis chiaramente questa settimana c'è stata l'ennesima conferma che anche per coerenza, e questo va dato grande atto agli Stati Uniti, che molte volte il cambio di un'amministrazione ha chiaramente delle ripercussioni soprattutto in politica interna, ma io ricordo sempre che anche quando sono avuti altri cambi di amministrazione da democratica a repubblicano, da repubblicana a democratica, una cosa che io personalmente ho sempre apprezzato è la coerenza di politica estera, cioè raramente sono visti dei cambi a U di 180 gradi. In questo caso, nello specifico, il rapporto nei confronti della Cina non mi sembra che sia cambiato sostanzialmente dal passaggio del testimone dall'amministrazione repubblicana di Trump all'amministrazione di Biden. Senza entrare nel merito, io credo che questa coerenza sia giusta, dovrebbe essere un esempio secondo me per qualunque area geografica, che poi nel merito sia giusto o sbagliata, la storia lo dirà. Quindi l'effetto che stiamo avendo adesso è un po' una risposta, quindi nello specifico dei delisting. Per qua, se invece vogliamo allargare al discorso tecnologico, non dobbiamo dimenticare quello che è successo l'anno scorso, abbiamo avuto un dominio di tutto quello che è tecnologico, soprattutto collegato al specifico alle FANG, come avevi detto prima qualche minuto fa. Quindi è normale che ci sia un attimo di ritresme e di normalizzazione. Secondo me queste cose non vanno mai viste in valore assoluto, ma bisogna guardarle anche in orizzonte un attimino più grande. Allora se andiamo indietro solo di sei mesi, anche se andiamo indietro anche di solo di un anno, quindi stiamo parlando di marzo dell'anno scorso, è ovvio che questo non è un grosso problema, è un minimo ritrasment. Quindi non bisogna abbandonare questi titoli? No, non bisogna abbandonare questi titoli, non sono un no brainer, non sono una scommessa ovvia e non avrebbe senso vedere, non mi aspetto che vedremo i stessi numeri che abbiamo visto nell'ultimo anno, soprattutto in termini di valutazione relativa. C'è sicuramente un tema di ritorno, di rotation verso il ciclico da quello che è il growth e quindi in questo caso le società tech che lo hanno rappresentato nella maniera più estrema. Da un'altra parte c'è appunto il reopening, c'è il piano fiscale appena autorizzato di 1.9 trilioni e si parla del prossimo già di 3 trilioni che andrà nel mondo delle infrastrutture. Questo chiaramente avvantaggia di più ciclici rispetto al tecnologico, dove sono state anche tante componenti che hanno beneficiato della famosa economia del stay at home, dello stare a casa. Ci stiamo andando verso in varie forme, in vari gradi tra Stati Uniti, Europa e Asia, ma stiamo tornando a un attimo di normalità. Questo chiaramente avvantaggia l'economia classica e svantaggia quelli che hanno beneficiato di questa situazione assurda. Però questo è un bene, non è un male. Assolutamente sì. Intanto avevi fatto prima una panoramica di tutto ciò che è accaduto questa settimana, in particolar modo un evento importante, senza dubbio negli Stati Uniti è stata la testimonianza di Powell insieme a Yellen che ci hanno dimostrato una congruenza tra il Tesoro e naturalmente la Fed, che era una cosa che non era proprio così scontata durante l'amministrazione Trump, giusto per essere chiari. Ecco, dopo tutto ciò che hai detto, che cosa significa particolarmente e precisamente, numericamente, soprattutto per l'indice del dollaro? Il dollaro effettivamente continua a confermare una forza. L'ultima volta che abbiamo parlato ho visto il record della via agenda, il dollaro euro è intorno a 1,19 e adesso siamo sotto la soglia di 1,18, quindi il dollaro chiaramente si è rafforzato. Negli ultimi periodi ha coinciso con un periodo un attimo di risk off. Adesso io non credo che sia necessariamente associato, però che ci sia, non dico un continuo rafforzamento, ma che la forza del dollaro, o almeno quella che abbiamo visto fino adesso, è giustificata dai fondamentali in dubbio. Il fatto che i tassi di interesse sono più o meno lì, i 10 anni, due settimane fa eravamo 1,66, adesso siamo 1,64, 1,65. Anche i 30 anni hanno mantenuto il suo livello, però confermano che effettivamente c'è una forza dei tassi di interesse americani e quindi è chiaro che questo ha vantaggio al dollaro. Non dimentichiamo anche oggi, per esempio, l'Università di Michigan, le aspettative di inflazione sono al 2,8%, sono i più alti dagli ultimi sei anni. Non dimentichiamo che in questo è importante una componente, che è quello che si chiama la psicologia del buy in advance, cioè in genere queste survey che sono delle valutazioni soft, cioè chiaramente non sono degli hard data, ma sono le aspettative, precedono in circa di due anni la realizzazione dell'inflazione. Quindi se noi vediamo questo 2,8% come quello che dovremmo aspettarci nei prossimi due anni, è in linea con le aspettative sia della Fed che del tesoro americano che si aspetta un aumento dell'inflazione verso il 3%, superiore al 2,5% nei prossimi due anni. Questo conferma il movimento dei tassi avvenuto sulla curva dollaro e questo è chiaro che va a supportare di più il dollaro rispetto all'euro, rispetto allo yen. Il dollaro si è rafforzato più o meno su tutte le valute e francamente è estremamente fondamentale. Poi riguardo alla coerenza Yellen e Powell, a me non sorprende perché se uno studia le loro posizioni durante i chiami della Fed, perché noi associamo Yellen e Powell soltanto a quando sono stati presidenti, ma sia Yellen che Powell sono stati alla Fed se non erano per oltre 15 anni. Io ricordo le dichiarazioni o le posizioni della Yellen anche durante l'amministrazione Grispan, quindi precedente anche a Bernanke, quindi tipo 2004. Yellen era considerata un falco, era per l'aumento dei tassi più di quanto voleva Grispan e insomma tutto a quel momento il board dell'FMC. La stessa cosa Powell dal 2012, non era un grosso tifoso del QI Infinity, il primo QI che fu fatto senza limite di budget nell'agosto del 2012. Quindi stiamo parlando di due personalità che hanno sempre avuto un allineamento superiore a quello che noi crediamo. Poi chiaramente nell'amministrazione di una banca centrale, nei conto di momenti storici, la Yellen si è trovata a proseguire il Tepering, che era stato annunciato da Bernanke ma non era stato ancora portato in essere per il famoso Tepertanto del 2013. Però c'è una coerenza in quello che hanno fatto, quindi a me non sorprende che siano molto allineati, però solamente mi supporterei a spingermi a dire che quasi sono più sulla linea Volcker che sulla linea Grispan in un certo qual modo, sia Powell che Yellen, quindi non mi sorprende questo allineamento. Sì, infatti oggi abbiamo visto tantissimi dati macro negli Stati Uniti, tra l'altro abbiamo visto soprattutto l'inflazione sia a livello mese su mese che anno su anno circa vicina alla linea delle aspettative, quindi non c'è almeno per il momento motivo per troppe paure. Però veniamo al dunque tutto ciò che accade nel canale di Suez, ancora bloccato, ovviamente secondo naturalmente le ultime stimme molto probabilmente si riprenderà la situazione verso il mercoledì di settimana prossima. Innanzitutto quale a tuo avviso l'impatto sul petrolio dopo tutto ciò che sta accadendo lì? Poi se dovesse rialzarsi troppo il petrolio che oggi tra l'altro guadagna più del 4% attualmente, che impatto potrebbe avere sulle pressioni inflazionistiche? Allora, sì, il petrolio, le pressioni inflazionistiche, gli effetti sulle pressioni inflazionistiche del petrolio a breve sono un po' overstated, nel senso in realtà, ne avevamo parlato anche un'altra volta, la correlazione forte tra l'inflazione e la componente del mondo comodi è più su tutto ciò che è food, quindi più che petrolio e addirittura anche oro. Quindi gli effetti sicuramente dovesse persistere, dovessimo trovarci con un petrolio che supera i 70 e dovesse persistere, è chiaro che avrebbe un impatto inflazionistico. Però al momento questi movimenti, per quanto importanti, oggi è più 4%, in realtà se andiamo a vedere gli ultimi giorni non è che c'è stato questo grande cambiamento, sono stati grossi movimenti, più o meno 4%, è incrementata la volatilità, però non c'è stato ancora un grosso cambio importante, tale da prevedere una persistenza a livelli più alti e quindi un aspetto inflazionistico. Per il momento è puramente temporaneo. Ottimo, invece se dovesse prolungarsi questa situazione? Se dovesse prolungarsi dipende poi da cose, se l'aumento del petrolio e dovesse essere dovuto ad un'interruzione per qualche motivo del commercio, diciamo per questo problema di Suez, che però non credo che non venga risolto nei propri giorni, il problema non sarebbe sul petrolio, il petrolio diventerebbe un sintomo, il problema sarebbe che abbiamo dei problemi strutturali, cosa che è successa già l'anno scorso con la prima fase della pandemia, dove verrebbero interrotte le catene di approvvigionamento di tutta la catena industriale occidentale per mancanza di approvvigionamento da parte dell'Asia. Allora se l'effetto dell'aumento del petrolio è dovuto a problemi di interruzione fisica dal punto di vista commerciale, allora le spettive inflazionistiche non sarebbero dovute semplicemente all'aumento del petrolio, ma al motivo per cui c'è stato questo aumento del petrolio e c'è per problemi di distribuzione. Invece sul discorso del petrolio, se il aumento del petrolio è dovuto al fatto che c'è un aumento di domanda, perché ricominciano i trasporti, incrementa la domanda per esempio dal punto di vista delle compagnie aeree, allora lì è un discorso diverso, lì sarebbe un aumento del petrolio che accompagna di una crescita economica e allora le spettative inflazionistiche legate a una forte crescita economica, quindi in quel caso saremmo parlando di un'altra partita. Qui stiamo parlando di un problema tecnico, credo temporaneo, di interruzione del commercio. Ok, perfetto, intanto andiamo a vedere anche il comportamento dell'oro, in questo momento in rialzo dello 0,38%, prezzo a 1733 dollari all'oncia, quando possiamo vedere il ritorno dell'oro a tuo avviso? C'entra qualcosa anche con i valori del dollaro o meno? Sì, allora il dollaro ha avuto un anno molto forte l'anno scorso, un inizio di anno un po' più difficile, però io sono convinto il dollaro e l'oro è l'unico asset che può essere considerato un oggetto che ha preservato ricchezza per circa 5 mila anni, 4 mila anni, dipende come lo vogliamo le statistiche, quanto indietro possono andare, ma è l'unica vera fonte di riserva di ricchezza. In un ambiente di aspettative inflazionistiche e di maggiore circolazione della valuta, l'oro si dovrebbe rafforzare soprattutto perché non dimentichiamo che l'oro è prezzato in dollari, quindi il dollaro si è rafforzato rispetto alle altre valute, quando parliamo di currency e di commodity è sempre un discorso relativo, non è come un indice che in valore assoluto incrementa o scende, quindi è chiaro che così come il dollaro si è rafforzato rispetto alle altre valute, quando l'oro si rafforza, si rafforza anche in funzione dell'embollimento del dollaro. Ora è ovvio che quanto più circolazione avremo di dollari a seguito di manovre espansionistiche che continuano a esserci, anche se secondo me andiamo verso una riduzione per le banche centrali, è una manovra fiscale espansionistiche, questo dovrebbe avvantaggiare chiaramente l'oro. Non è detto che un aumento dei tassi di interesse in un'aspettativa inflazionistica danneggi l'oro, questo non è assolutamente verificato, un grosso mercato bullish dell'oro fu negli anni 70 quando i tassi salivano alle stelle perché era una situazione non di perinflazione ma di inflazione sostenuta, quindi l'analisi dell'oro è più complessa di quanto si possa percepire. Ottimo, grazie mille. Gianluca Lobefalo, QW Capital, grazie per essere stato con noi. Grazie per avermi invitato.